Ehi la ciurma, io sono mezzo a testa e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Imperator Rome nella nostra campagna con l'Egitto. Allora ci siamo lasciati in una situazione abbastanza buona in cui siamo riusciti a conquistare comunque buona parte dell'impero di Frigia durante la lunga e dispendiosa guerra contro di esso. Allora, mi sono accorto di un paio di cose, appunto prima vabbè il men power è diminuito un po' e due che non abbiamo dato delle idee al nostro regnante, al nostro regno. Allora, l'Egitto parte con consigliati un'idea militare e due idee di oratoria in modo da migliorare quelle che sono le caratteristiche che abbiamo. Allora, come idea militare? Il morale dell'armata non è male. E il recovery dell'armi morale anche, in più, ordine di retiata costerà soltanto 50 e fare martial ethos ci costerà solo 50. Diciamo che... ah no, ok, questo ci costa 50, abbracciare questo, ok. Diciamo che ci conviene andare a spendere tutto, idee di oratoria. La corruzione scende di 0,10. La lealtà dei generali ci aumenta di 0,05 al mese. Oppure migliorare l'opinione aumenta di 33%, ok. No, questa mi interessa e anche questa direi, tra tutte quelle che possiamo avere. Così adesso abbiamo sbloccato dei nuovi guadagni per il nostro impero. Allora, adesso abbiamo un filosofo che non è assegnato, questo direi che ci può stare, questo mi è nell'aula l'argide. Qualche che abbiamo di scorned families? I filetidi, i persidi, i peneidi e i zosidi. Ma possiamo mettere un peneido, allora, così sono più tranquilli. Il nostro regnante non è sposato, vediamo un attimo chi possiamo farlo per sposare. Allora. Berenice. Ok. Non ci sono dei miei parenti, vero qua in mezzo? Redatto l'Egitto, perché questa qua mi sembra molto carina. Ha 28 anni, il nostro è molto molto più vecchio. Quanti anni ha il nostro regnante attualmente? Non lo so, 74? Questa è una 25, questa è una 24. Questa è una 25, forse un pochettino più avanti. In più ha delle caratteristiche molto buone, è corrotta. È corrotta, però è molto in salute, è molto leale, ha bassa popolarità però. È ambiziosa. Perché qua, allora, che caratteristiche ho? Diplomatico, Reputation. Finesse, Prominence. Ah, Incapace. Prenderei comunque lei. La famiglia Laride. Questi due invece sono dei magidi. Ma nessuno di quelli sono scornati. Io scioglierei questa. Ok, allora, lui adesso prenderà il... Cosa? Ok, prenderà 10 di popolarità perché ha il suo... Cosa che è stato raggiunto? Ah, ok. Tradizioni greche abbiamo come albero militare. Vediamo un attimo. Allora, migliora la disciplina della cavalleria, ma non abbiamo ancora la cavalleria. La... Uh, il morale dell'infanteria è pesante. Oppure quanto è l'esperienza delle cohorti e quanto scende velocemente l'esperienza. Light cavalry offense. Qualcosa va? Poi raid ports ability, light infantry offense, archer discipline. Non mi interessa molto quel ramo. Direi light cavalry defense, siege ability, è interessante. Military colonies. Ah, le difese dei triremi, difese dei forti, costano meno l'infanteria pesante. Morale dell'avrata più 500%, meno 15% al costo... Uh, cavalry skirmish, heavy cavalry, light infantry. Questi due sono molto interessanti. Però direi che inizierei con questo. E... Eh, ci sono dei pretendenti, possiamo comprare questa nuova invenzione, ma anche no. La white piece ancora no? Va bene. Allora, riprendiamo il discorso da dove avevamo lasciato. Allora, qua il discorso è che ancora non ci accettano tutto quello che vorremmo, perché noi volevamo fino alla bruda. Se non ricordo male, no? Allora, io direi dammi la gallilea, la filistia, la samaria e la fenicia. Più. Gerra, Calibon e la bruda. Non lo vuole per meno 17. Se io ti dessi... Questo, questo... Scusami. Ehm... No. Allora, dammi giusto la striscia di terra. Ma questo voglio tutto. Qua è un meno 7. Allora, qua... Ci sarà una battaglia e perderemo verosimilmente. Ci sono questi che si stanno andando a schiantarla, ma possiamo arrestarli? No. Possiamo al massimo mandare degli altri. E sarà tutto da vedere. Aia! Kaiser... No, ce le prendiamo due in faccia. Mi sa che non è stata un'ottima idea, quella, eh. Si stanno riprendendo la bruda. Direi che forse ci conviene non esagerare. Allora. Poi dire questo, via. No, eh... Allora. Scusami, ecco, resetto un attimo. Allora. South Fenicia. Samaria. Filistia. Galilea. Non me la dà. Per un meno 27. Oh, crebio. South Fenicia. Se togliamo South Fenicia, neanche. Niente, dobbiamo continuare a combattercela allora, mi sa, eh. Abbiamo fatto quella bella vittoria là, allora sono tutti belli ringalluzziti. Comunque direi che... Vabbè, uno possiamo pigliarci un attimo... Disciplina ci sta. Allora. Un po' di fanteria pesante. Adesso potremmo farla, credo. Sì, qua. Sei. Questi sono della Ionia. Secondo me arrivano e ci picchiano tutti, eh. Questi sono miei, no? Questi dove vanno? Là. E poi basta. Vai a marcia forzata e giù sotto. Anche tu a marcia forzata e giù sotto. Questi anche dovrei farli scappare tra un attimo. Dobbiamo fare una ritirata più o meno strategica. Allora, vediamo un attimo qua. Adesso cosa ci consigliamo per la guerra. Meno 29. Perché così tanto adesso scende? Scusate un attimo. Come sta andando il World Score qua? Loro hanno più uomini adesso. Ah no, sono morti più uomini. Ok. Di quanti ne sono morti o no? Però hanno ancora una valangata di truppe. Guardate quante coorti hanno. Riescono ad arrivare questi qua in tempo? Hanno un morale bassissimo perché hanno ottenuto il Force of Merch. No, 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 voi. Voi andate qua. Ci sono gli altri, vedo, no? Ok, abbiamo vinto. Cribbio mi ha impizzicato quei mille uomini. Voi andate qua. A quella dovremmo riuscire a vincerla, mi auguro. Vinta. Ok, abbiamo catturato anche un nemico. Uniamoli tutti. Via. Resistete. Per piacere. Ma loro ne hanno ancora... No, no, no. Porca miseria. No, non volevo ritirarmi. Porca miseria. Ho sbarato tutto. Perché? Non volevo fare la ritirata. E niente. Adesso ci ripigliamo in faccia. Porca miseria. Ci hanno dichiarato guerra anche da un'altra parte. No. Ah, ha sbagliato tutto, ha sbagliato tutto. Cush, ci ha dichiarato guerra. Quelli sono quelli che volevo picchiare con forza. Ma mi sa che adesso abbiamo pochi, 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 pochi uomini. Ah, shoo for peace. Senti, me ne frega niente di quell'altro là. Dammi quello che posso prendere e basta. La Galilea te la lascio. La Filist... Guarda, aspetta. Dammi solo la Filistia. Cioè, neanche solo la Filistia? Porca miseria. Porca miseria. Non posso fare una pace bianca, l'abbiamo perso troppa gente. Ma non capisco perché la truppa rimane selezionata anche se seleziono altro. Cioè, io chiudo qua ma mi rimane selezionata quella? Ah, due volte mi hanno fatto sto scherzo stupido. Allora, 19.000 con un generale stupido. Questo non è con generale. Sono 21.000 con un generale da 9. Scusate, quante truppe hanno loro? Ma nulla! Non hanno niente di truppe! Scusate, con dei... Mercenari dovrei prenderli facilmente. Questo... 7.000 uomini con un generale di... 4. Fa abbastanza schifo, però... Però hanno 12 corti con... 50.000 di manpower. Il problema sarà l'attrito. Oh, direi che questo da 7 per ora ci va bene. E la mandiamo giù qua. Per ora. Ehi? Ah, ok. E ho bisogno di altre truppe, però, per quanto riguarda il fronte... Frigia. Presso la me moriranno tutti. Non avrò più manpower da nessuna parte. Sono altro le tre mi là che mi... difendono. Sì, ho bisogno di un bel po' però per recuperare il morale. Che succede? Oddio, c'è stato anche un... E' una fraggio. Ehi, stia. Ehi, stia. Ehi, stia. Ehi, stia. No, mi sa che devo fare questa, perché abbiamo bisogno di tantissimi soldi ora come ora. Guarda il deserto quanto cavolo di attrito ci dà. E là sotto sarà tutto deserto, tutto, tutto, tutto deserto praticamente. Da Fook? No, scusate, Navi. Qua, qua, il mare è su cosa dà? Come faccio a capire da che parte dal mare? Dove c'è la casetta? Forse perché non c'è un porto là, boh. No, non muro altissimo, ma quelli sono 5.000, dai. Fermatevi un attimo qua, magari. Vediamo un attimo se qua adesso gli dà almeno uno, no. Ma qua glielo darebbe almeno uno, secondo me neanche. Sono questi che perdono gente come se non ci fossero domani. Ma anche voi che stanno passando da parte sbagliata, ragazzi, eeeh... Scusami, eh, ma... Vero che allungano un po', ma mi è necessario farli passare di A, perché sennò... Ciao, one. Se vedo la picchiare, ok, dovrei vincere. Ottimo. Ok. Li ho pizzicati, li ho pizzicati. Quanti soldi che se ne stanno andando via? Quanti sedi che mi stanno riprendendo. Allora, voi spezzatevi a metà, magari, ecco. Le avevo uniti, ma solo perché non c'era altra possibilità. Questo è un sacco di corruzione. Prendiamo questo, allora. Tu vai là, e appena lui è partito, lo segue l'altro. Com'è che prendo tutto sto atleto uguale? Ok, giochi olimpici. Magas Magid, chi è Magas Magid? Non ha dei ruoli attuali, mi sa. Ma perché prendo tutto sto trito? Porca miseria. Ah, perché sono sopra il supply limit. Allora, che... Hanno solo quello di castello, ok? Di forte. No, perché vanno a farsi pizzicare quegli altri scemi. Porca miseria. Niente, non li salveremo mica, quelli. Allora, le mina vi dobbiamo tornare qua. No, non li salchiamo, mai. dipende tutta questa battaglia difendiamo tiro ragazzi ok ok abbiamo avuto grande successo ai giochi olimpici però allora voi ritornate in qua abbiamo delle truppe per riprenderci quello che è il nostro ma continuano tutti ad essere above the supply limit diciamo che condensiamo mi spiace ma è necessario perché altrimenti prendiamo troppo trito perché conta come mille mila corti mentre invece no ce lo fanno questi quello come deserto no no per fortuna no ora mi accettano una pace questi altri ma adesso non vi chiedo solo più quello ragazzi quanto è quello che sto spendendo dammi la galilea la samaria la south fenicia meno 10 vado dovremmo picchiare ancora un po ci sono dei forti qua in zona no fin lassù non ce n'è ma non mi conviene andare a pigliare quello perché troppo in su no questo assedio è stato concluso quindi andiamo andiamo qua ok andiamo giù qua no dov'è ok gente ne hanno 12 mila 12 corti intanto la sede sotto se lo vinciamo me lo dice facciamo un po di carpet siege come prima pronti picchiare ok 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 quindi ok ok sai che sono già sui titoli in là ok dai che ci pigliamo anche questi ma le gioco mi muoiono i miei tirateli giù per piacere e ancora non accettano ora vado di carpet siege qua ok la capitale l'oro dov'è? qua? direi che mi conviene andare fin qua no non siamo capiti qua qua ah no e per forza passare di là e niente allora sperando di non prendere troppo attrito nel mentre no di nuovo la lega anesiotica per piacere no di nuovo la lega anesiotica dai dove vanno sti qua della lega anesiotica sotto di nuovo adesso sono in guarda con quanto un altro quanto vedo ancora meno sette no sono dei barbari che sfondano il confine sembra no si picchia un te lo di loro mi sa eh buono così buono così guarda scusate si donne diplomaticamente con chi sta? è un vassallo della frigia? ah ma noi possiamo andare a picchiarlo? no non è in guerra con noi si vede di no no la cappadocia la ionia sono tutti in guerra con noi ionia scusa un attimo è un subject sono dei subject ma questa è la lega anesiotica non posso fare eh no perché è un vassallo è uno stato vassallo allora loro dove stanno andando? andate in qua la bruda vediamo se me lo accettano sta pace del manga no ma se io vi dicessi scusa aggiungetemi questo allora bruda ancora non ce l'ho poi ti tolgo tutte queste zone qua che non mi interessano in realtà no questa si meno due potremmo farcela si quelli qui dopo la sedia devono tornare in qua mi sa devo andare a controllare per gli altri che cavolo stanno facendo mi fa strano che siano fermi tutto il tempo mi hanno dichiarato però qui stanno fermi ah li ho battuti senza neanche accorgermene è buono così e da 17.000 sono rimasti in 9.000 quegli altri anche quegli altri sono degli idioti dai ma volete piantarla di rompere i cosiddetti in questo modo incredibile nooo mi ha impizzicato porca miseria stiamo vedendo cara la pelle comunque mi sa che mi ci muoiono tutti qua mi sa che mi ci muoiono tutti qua mi sa che mi ci muoiono tutti qua ci hanno battuto ci hanno battuto ci hanno distrutto completamente scusa un attimo dai costo meno due però non ho più uomini non ho più uomini cosa recluto questi mercenari qua ma alla fine che mi schiantano subito andiamo in qua con questi vado a picchiare la cappadocia appena mi lasciano tranquillo un attimo allora andate là non ho più posso rischiarmelo? che dite? non lo so si si posso di brutto no scusate ma la lega di niroti che è contro di me abbiamo catturato un altro nemico dai non ho le province no porca miseria ci stanno facendo l'assedio dappertutto dove stanno le mie altre truppe qua sotto? sono quelli che tentano l'assedio ma no dove sono i miei uomini? dove sono andati i miei uomini? scusa eh ma uno due tre e gli altri? i miei altri uomini di quelli che avevo andato giù sotto? che fine ho fatto dopo la battaglia? scusa un attimo ma eh e assumiamo questi? non so cosa dire come siamo stati battuti i chabirons? ehm porca miseria apri la mano al morale troppo basso ok adesso questa l'abbiamo vinta io non sono fatto per seguire due guerre in contemporanea allora no devi darmi tutto ragazza mia uno due tre quattro questo puoi tenertelo questo puoi tenertelo mannaggia la miseria vorrei concludere sta guerra prendi concludere il video possibilmente allora no andate qua voi voi mercenari andate a prendere quella vediamo se adesso mi accetto la nostra cavola di Pia pace allora questa no scusa anche questa e anche questa eh vorrei qui dannazione di cavalli ok dammi questo 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 me lo darebbe? così sarebbe spezzato completamente in due il regno di friggio eh ci sarebbe questa parte completamente dentro il mio ci sta quelli hanno cavalli guadagnerei cavalli legno non non ferro vero non hanno ferro il ferro devo prenderlo da quelli sotto il nostro caro ragazzo qua ha del ferro vero? ok ok un po' di soldi? no non così tanti 40 40 sì vada no tiro resta così no tiro così scioglierei e voi andate a tiro voi entrate in porto Deo grazia ce l'abbiamo fatta almeno una guerra è stata conclusa scusa ho un office ah no dov'è? ooooo poi devo mantenerla se non è la sotto direi di no niente ragazzi direi che questo può essere tutto però oggi siamo riusciti ad espanderci parecchio in questa zona qua ottenendo ora dei cavalli possiamo fare delle truppe a cavallo adesso? vediamo si ok non abbiamo manpower ma possiamo farli la e possiamo anche fare delle navi adesso qua a tiro yes yes oltre che la tramite la rotta commerciale e qua giù no la rotta commerciale l'hanno interrotto qua oh è stata un'ottima guerra adesso dovremmo cercare di occuparci di quest'altra qua sotto di cui prendiamo una valangata di attrito per fortuna sono dei mercenari ma ci sarà parecchio da combattere per riuscire a prendere anche qua qualcosa di interessante io vi ringrazio per la visione ci vediamo nel prossimo episodio vi invito a lasciare un mi piace e un commento qua sotto ciao a tutti e buona giornata ciao a tutti e buona giornata ciao a tutti e buona giornata